Ciao, un bel sarò, sentite la mia cumbia di passati a mettere? Non lo vuoi a te. Ma andiamo alla panna, cosa da un frumbo. A mangiare? A qual mangiare? Ma andiamo a bicchiare. Io, ma a bicchiare, a cilinio, ma aria, dove stanno a fare i geniari. Un club è privato, fino, amonibile, mia cumbia. Amonio. Ma, ma non mi sta portando. Tu, ti preoccupare. Buonasera signori, benvenuti. Loro sono saci. No, io sono tesserato il signore con me. Prego. Allora, buon divertimento. Grazie, grazie. E, tenei, 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 nelle cunei. Io, te neanche se, e, mèèè, U, te che ci dopo... What, what, what? ...I, what, 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 what? What, what, what? What, what. What? I, what, what? He's giving an annunci, And, what to what? He's giving a sot to the luce. il problema ora sento di lucia e poi vissi meno il barco è vero l'ora non loco quando mi devo andare a me direzio come si può che appingata un ruo come poi vedi se non è pianto il creme il ciume un sacolo gioco i vedi il ragazzo e mi fa ma il consiglio non mi piace e chi è che ha fatto una luce e chi è questo pappone ma come che fa sognato se è un cà e educato non è mio e mi chiedo se vuole un lupo